Il grosso errore di Zia Marge Quando Harry scese a colazione la mattina dopo, trovò i tre Darsley già seduti al tavolo di cucina a guardare la televisione. L'apparecchio era nuovo di zecca, un regalo di fine scuola per Dudley, che si era sempre lamentato del lungo tragitto dal frigo alla tv del salotto. Dudley aveva passato gran parte dell'estate in cucina, masticando ininterrottamente, con i piccoli occhi porcini fissi sullo schermo e i cinque doppi menti che tremolavano. Harry sedette tra Dudley e zio Vernon, un omone bene in carne con il collo cortissimo e folti baffi. Nessuno si sognò di augurare buon compleanno a Harry, anzi, nessuno dei Darsley diede segno di accorgersi che fosse entrato in cucina, ma Harry c'era troppo abituato per farci caso. Prese una fetta di pane tostato e guardò il mezzo busto sullo schermo. Parlava di un detenuto evaso. Black è armato ed estremamente pericoloso. È stata attivata una linea telefonica speciale e chiunque lo ha visti è pregato di comunicarlo immediatamente alle autorità. È chiaro che è un delinquente, bofonchiozio Vernon fissando l'ex prigioniero da sopra il giornale. Guardatelo un po', guardate com'è sporco, e i capelli poi. Scoccò un malevolo sguardo obliquo a Harry, la cui chioma ribelle lo aveva sempre molto infastidito, ma in confronto all'uomo sullo schermo, il volto magro incorniciato da un groviglio sporco che gli arrivava alle spalle, Harry si sentì molto ordinato. Ricomparve il mezzo busto. Il Ministero dell'Agricoltura e della Pesca annuncerà oggi «Ehi!» abbaiò zio Vernon fissando furente il giornalista. «Non ci hai detto da dove è fuggito quel maniaco? Che razza di modo è? Quel pazzo potrebbe spuntare qui intorno da un momento all'altro!» Zia Petunia, una donna ossuta con la faccia a cavallina, si alzò di scatto e gettò un'occhiata fuori dalla finestra della cucina. Harry sapeva che Zia Petunia sarebbe stata felicissima di poter chiamare il numero speciale. Era la donna più ficcanaso del mondo e passava gran parte del suo tempo a spiare i vicini, anche se erano noiosi e rispettosi della legge. «Quando impareranno che la pena di morte è il solo modo di trattare con gente del genere?» disse zio Vernon picchiando il grosso pugno violaceo sul tavolo. «Verissimo!» disse zia Petunia, ancora intenta a sbirciare tra i rampicanti del vicino. Zio Vernon finì il suo tè, guardò l'orologio e disse «Esco tra un minuto, Petunia. Il treno di Marge arriva alle dieci!» Harry, i cui pensieri erano tutti per il suo kit di manutenzione per scope, ripiombò bruscamente nella realtà. «Zia Marge!» esclamò. «Non è che sta venendo qui, vero?» Zia Marge era la sorella di zio Vernon. Anche se per lui era solo una parente acquisita, la madre di Harry era la sorella di zia Petunia, era costretto a chiamarla zia. Zia Marge viveva in campagna, in una casa con un grande giardino, e allevava bulldog. Non veniva spesso a Privet Drive perché non riusciva a separarsi dai suoi amatissimi cani, ma tutte le sue visite erano vividamente, orribilmente impresse nella memoria di Harry. Per il quinto compleanno di Dudley, zia Marge aveva picchiato Harry sugli stinchi con il bastone da passeggio perché la smettesse di battere Dudley al gioco dei mimi. Qualche anno dopo, a Natale, era arrivata con un aereo telecomandato per Dudley e una scatola di biscotti per cani per Harry. Durante la sua ultima visita, Harry aveva calpestato per errore la coda del suo cane preferito, Squarta, che l'aveva rincorso per tutto il giardino, finché il ragazzo non aveva trovato riparo su un albero. Zia Marge aveva richiamato il cane solo a mezzanotte passata. L'episodio faceva ancora ridere Dudley fino alle lacrime. «Marge rimarrà da noi per una settimana», si bilò Zio Vernon. «E visto che siamo in argomento, sarà il caso di chiarire qualche cosetta prima che io vada a prenderla», aggiunse, puntando un grasso dito minaccioso verso Harry. Dudley fece un sorrisetto e distorse lo sguardo dallo schermo. Guardare il padre che strapazzava Harry era il suo divertimento preferito. «Prima di tutto», ringhiò Zio Vernon, «tieni a posto la lingua quando parli con Marge». «Lo farò», ribatté Harry aspramente, «se lei lo fa con me». «Secondo», disse Zio Vernon, fingendo di non aver sentito, «dal momento che Marge non sa nulla della tua anormalità, non voglio che succedano cose... cose strane mentre lei è qui. Comportati bene, capito?» «Sì, se lo fa lei», disse Harry a denti stretti. «Terzo», riprese Zio Vernon, gli occhietti malvagi ridotti a fessure nel faccione violaceo, «abbiamo detto a Marge che frequenti il centro di massima sicurezza San Bruto per giovani criminali irrecuperabili». «Che cosa?», esclamò Harry. «E sarà meglio che tu glielo lasci credere, ragazzo, o saranno guai», ribatté Zio Vernon. Harry rimase seduto, pallido e furibondo, guardando Zio Vernon con aria incredula. Zia Marge ospite per una settimana. Era il peggior regalo di compleanno che i Darsley gli avessero mai fatto. Peggio anche dei vecchi calzini di Zio Vernon. «Bene, Petunia», disse Zio Vernon alzandosi goffamente. «Vado alla stazione. Vuoi venire anche tu, Daddars?» «No», rispose Dudley. Ora che suo padre aveva smesso di minacciare Harry, era tornato a guardare la televisione. «Didi, adesso si fa bello per la zietta», disse Zia Petunia, accarezzando i folti capelli biondi di Dudley. «La mamma gli ha comprato un bel cravattino nuovo nuovo». Zio Vernon diede una pacca sulla spalla porcina di Dudley. «Ci vediamo fra poco, allora», disse e uscì. Harry, che era rimasto immobile come impietrito dall'orrore, all'improvviso ebbe un'idea. Lasciò perdere il pane tostato, scattò in piedi e seguì Zio Vernon nell'ingresso. Zio Vernon si infilò il giaccone. «Non ho intenzione di portare te», ringhiò. «Non ho intenzione di venire», rispose Harry gelido. «Volevo chiederti una cosa». Zio Vernon lo squadrò con sospetto. «I ragazzi del terzo anno a Og, voglio dire alla mia scuola, hanno il permesso di visitare il villaggio di tanto in tanto», disse Harry. «E allora?», scattò Zio Vernon, prendendo le chiavi dell'auto da un gancio vicino alla porta. «Devi firmare il permesso», disse Harry in fretta. «E perché dovrei?», chiese Zio Vernon Beffardo. «Beh», spiegò Harry scegliendo con cura le parole. «Non sarà facile per me far finta con Siamarge di frequentare quel centro non so che». «Centro di massima sicurezza San Bruto per giovani criminali irrecuperabili», Muggizio Vernon, e Harry fu lieto di cogliere un'evidente nota di panico nella sua voce. «Esatto», disse Harry, fissando tranquillamente il faccione paonazzo di Zio Vernon. «È lungo da ricordare e dovrò sembrare credibile, vero? E se per sbaglio mi lascio scappare qualcosa?» «Ti spezzo le ossa una per una, capito?», rugizio Vernon avanzando verso Harry con il pugno alzato. Ma Harry rimase immobile. «Spezzarmi le ossa non farebbe dimenticare a Zia Marge quello che le potrei dire», ribatté ironico. «Zio Vernon si fermò, col pugno ancora alzato, grigiastro in volto. Ma se mi firmi il permesso», riprese Harry in fretta, «giuro che mi ricorderò il nome della scuola che hai detto e mi comporterò come un bab... come uno normale». Harry capì che Zio Vernon stava riflettendo, anche se aveva i denti scoperti e una vena che gli pulsava alla tempia. «Va bene», esclamò alla fine Zio Vernon, «starò molto attento a come ti comporti durante la visita di Marge e se alla fine avrai rigato dritto, ti firmerò quel maledetto permesso». Girò sui tacchi, aprì la porta e la sbatté così forte che uno dei pannelli di vetro cadde fragorosamente. Harry non tornò in cucina, invece andò di sopra, nella sua camera. Se doveva comportarsi come un vero babbano, era meglio cominciare subito. Lentamente, malinconicamente, raccolse i regali e i biglietti di auguri e li nascose sotto il letto insieme ai compiti. Poi andò alla gabbia di Edvige. Errol si era ripreso. Lui ed Edvige erano addormentati, il capo sotto l'ala. Harry sospirò, poi gli svegliò. «Edvige», disse in tono sconsolato, «devi sparire per una settimana. Vai con Errol, Ron si prenderà cura di te. Gli scriverò un biglietto per spiegargli, e non guardarmi così». Gli occhi ambrati di Edvige erano colmi di rimprovero. «Non è colpa mia, è l'unico modo per avere il permesso di andare a Hogsmeade con Ron e Ermione». Dieci minuti dopo, Errol ed Edvige, che aveva un messaggio per Ron legato a una zampa, volarono fuori dalla finestra e sparirono. Harry, decisamente triste, ripose la gabbia vuota nell'armadio. «Non dovete aspettare molto, in men che non si dica, zia Petunia prese a strillare su per le scale, ordinandogli di scendere per salutare l'ospite. «E fai qualcosa a quei capelli!» gli disse mentre Harry si avviava verso l'ingresso. Harry non capiva perché dovesse cercare di lisciarsi i capelli. Zia Marge adorava criticarlo, e quindi più lui era disordinato, più sarebbe stata contenta. Ben presto, si sentì scricchiolare la ghiaia, mentre l'auto di zio Vernon percorreva il vialetto. Poi si udirono il rumore delle portiere che si chiudevano e i passi sul sentiero del giardino. «Vai alla porta!» si bilò zia Petunia a Harry. Lo stomaco ridotto a un nodo, Harry aprì la porta. Sulla soglia c'era zia Marge. Somigliava molto a zio Vernon, larga, bene in carne e paonazza. Aveva perfino i baffi, anche se non cespugliosi come quelli dello zio. In una mano reggeva un'enorme valigia e, infilato sotto l'altro braccio, c'era un vecchio bulldog dal pessimo carattere. «Dov'è il mio Dadders?» rugizia Marge. «Dov'è il mio nipotino tesorino?» Dudley caracollò avanti, i capelli biondi incollati piatti sul testone, il cravattino appena visibile sotto molteplici strati di doppio mento. Zia Marge scagliò la valigia nello stomaco di Harry, mozzandogli il respiro. Sollevò da terra Dudley, lo strizzò forte con il braccio libero e gli stampò un grosso bacio sulla guancia. Harry sapeva benissimo che Dudley tollerava gli abbracci di zia Marge solo perché veniva ben ricompensato ed era certo che una volta sciolto l'abbraccio Dudley avesse una crocchiante banconota da venti sterline ben stretta nel pugno ciccione. «Petunia!» esclamò zia Marge passando davanti a Harry come se fosse un appendi abiti. Zia Marge e zia Petunia si baciarono, o meglio, zia Marge urtò il mascellone contro lo zigomo ossuto di zia Petunia. Ziovernon entrò, sorrise gioviale e chiuse la porta. «Tè, Marge?» chiese. «E squarta che cosa prende?» «Squarta prende il tè dal mio piattino!» disse zia Marge mentre entravano tutti in cucina lasciando Harry solo nell'ingresso con la valigia. Ma lui non si lamentò. Ogni scusa era buona per non dover stare con zia Marge. Così prese a trascinare la valigia di sopra, nella stanza degli ospiti e ci mise più tempo che poteva. Quando tornò in cucina a zia Marge erano stati serviti tè e torta alla frutta e squarta in un angolo leccava rumorosamente il piattino. Harry vide zia Petunia rabbrividire impercettibilmente notando le gocce di tè e bava che macchiavano il pavimento pulito. Zia Petunia odiava gli animali. «Chi ti cura gli altri cani, Marge?» chiese zio Vernon. «Oh, c'è il colonnello Fubster che si occupa di loro!» esclamò zia Marge. «Ora è in pensione ed è contento di avere qualcosa da fare ma non ho proprio potuto lasciare a casa il povero vecchio squarta quando è lontano da me piange!» Squarta prese a ringhiare mentre Harry si sedeva. Per la prima volta da quando era arrivata l'attenzione di zia Marge si concentrò sul ragazzo. «Allora!» abbaiò. «Sei ancora qui?» «Sì!» disse Harry. «Non dire sì con quel tono ingrato!» ringhiò zia Marge. «Vernon e Petunia sono maledettamente gentili a tenerti io non l'avrei fatto!» «Saresti andato dritto filato all'orfanotrofio se ti avessero abbandonato sulla porta di casa mia!» Harry moriva dalla voglia di dire che avrebbe preferito stare in un orfanotrofio invece che con i Dursley ma il pensiero del permesso per Hogsmeade lo fermò. Così sorrise a fatica. «Non fare quelle smorfie!» tuonozzi a Marge. «Vedo che non sei affatto migliorato dall'ultima volta. Speravo che la scuola ti avrebbe ficcato in testa un po' di buone maniere!» prese una gran sorsata di tè si asciugò i baffi e disse «Dove hai detto che lo mandate, Vernon?» «A San Bruto!» rispose prontamente zio Vernon. «È un istituto di prim'ordine per casi senza speranza!» «Ho capito!» disse zia Marge. «Usano la frusta a San Bruto, ragazzo?» abbaiò. «Ehm...» zio Vernon fece sì con la testa dietro la schiena di zia Marge. «Sì!» disse Harry. Poi, pensando che tanto valeva far le cose per bene, aggiunse «Sempre!» «Ottimo!» disse zia Marge. «Io non la capisco questa mania di non darle alla gente che se lo merita. È da smidollati, da mollaccioni! Una bella batosta è quello che ci vuole in novanta casi su cento! E te? Ti picchiano spesso?» «Oh sì!» rispose Harry. un sacco di volte. Sia Marge socchiuse gli occhi. «Il tuo tono continua a non piacermi, ragazzo!» profferì. «Se usi quel tono svagato per parlare delle frustate che prendi, è chiaro che non te ne danno abbastanza. Petunia, se fossi in te scriverei una lettera al direttore per ribadire che approvi l'uso delle maniere forti con il ragazzo!» Forse zio Vernon temeva che Harry dimenticasse il loro patto. Comunque, cambiò bruscamente discorso. «Hai sentito il telegiornale stamattina, Marge, di quel prigioniero evaso? Che storia!» Mentre zia Marge cominciava a fare come se fosse a casa sua, Harry si sorprese a pensare con nostalgia alla vita al numero quattro senza di lei. Zio Vernon e zia Petunia di solito lo esortavano a stare fuori dai piedi, cosa che Harry faceva con gran gioia. Zia Marge invece voleva tenere Harry sempre sott'occhio in modo da poter dispensare consigli su come migliorare i suoi modi. Era felice di poter paragonare Harry a Dudley. Provava un gran piacere nel comprare al nipote regali costosi e nel darglieli fissando Harry, sfidandolo a chiedere perché non ci fosse un regalo anche per lui. In più, continuava a lasciar cadere cupe allusioni su ciò che faceva di Harry una persona così manchevole. «Non devi rimproverarti per come è venuto su il ragazzo Vernon», disse a pranzo il terzo giorno. «Se c'è qualcosa di Marge dentro, uno non può farci niente!» Harry cercò di concentrarsi sul piatto ma gli tremavano le mani ed era rosso di rabbia. «Ricordati il permesso», si disse. «Pensa a Hogsmeade, non dire niente, non alzare...» Zia Marge prese il bicchiere pieno di vino. «È una delle regole base dell'allevamento», disse. «Con i cani è sempre così. Se c'è qualcosa che non va nella madre, anche i cuccioli avranno qualcosa che non...» In quel momento il bicchiere esplose in mano a Zia Marge. Frammenti di vetro volarono in tutte le direzioni e Zia Marge prese a sputacchiare e a strizzare gli occhi il faccione rosso grondante di vino. «Marge», squittizia Petunia. «Marge, va tutto bene?» «Non è niente», grugnizia Marge asciugandosi la faccia col tovagliolo. «Devo averlo stretto troppo. Mi è successa la stessa cosa l'altro giorno a casa del colonnello Fabster. Non agitarti, Petunia, è solo che ho una presa molto salda.» Ma Zia Petunia e Zio Vernon lanciarono a Erri occhiate sospettose. Così lui decise che era meglio saltare il dolce e allontanarsi da tavola più in fretta che poteva. in corridoio appoggiò la schiena al muro e respirò profondamente. Da tanto tempo non gli succedeva di perdere il controllo e far esplodere qualcosa. Non poteva permettersi che accadesse di nuovo. Il permesso per Hogsmeade non era la sola posta in gioco. Se continuava così sarebbe finito nei guai con il ministero della magia. Erri era ancora un mago minorenne e la legge dei maghi gli proibiva di fare magie fuori dalla scuola. Ma il suo curriculum non era proprio immacolato in questo senso. Solo l'estate precedente aveva ricevuto una severa ammunizione ufficiale. Se il ministero avesse avuto notizia di altre pratiche magiche compiute a private drive Erri sarebbe stato espulso da Hogwarts. Erri sentì che i Dursley si alzavano da tavola e corse di sopra fuori dai piedi. Erri riuscì a superare i tre giorni che seguirono sforzandosi di pensare alla guida fai da te alla manutenzione delle scope tutte le volte che Zia Marge se la prendeva con lui. La cosa funzionò anche se a quanto pare lo costringeva a una certa fissità dello sguardo tanto che Zia Marge cominciò a vociferare che secondo lei Erri doveva essere ritardato. Finalmente arrivò l'ultima sera della vacanza di Zia Marge. Zia Petunia preparò una cenetta speciale e Zio Vernon stappò parecchie bottiglie di vino. Mangiarono la minestra e il salmone senza far cenno ai difetti di Erri. Al momento della meringata al limone Zio Vernon li tediò tutti con un lungo discorso sulla Grannings la sua ditta produttrice di trapani. Poi Zia Petunia fece il caffè e Zio Vernon tirò fuori una bottiglia di brandy. Un bicchierino Marge? Zia Marge aveva già bevuto parecchio il suo faccione era molto rosso. Ma sì appena appena disse ridacchiando «Ancora un po', un po' di più bravo ragazzo!» Dudley stava facendo sparire la quarta fetta di meringata. Zia Petunia beveva il caffè con il mignolo teso. Erri avrebbe tanto voluto eclissarsi in camera sua ma incontrò lo sguardo furioso di Zio Vernon e capì che doveva resistere. «Oh!» disse Zia Marge schioccando le labbra e posò il bicchiere vuoto «Che mangiata Petunia! Di solito la sera mi faccio due cosette veloci con dodici cani a cui badare!» ruttò sonoramente e si batté il grosso stomaco ricoperto di tweed «Scusate ma mi piace vedere un ragazzo sano!» riprese strizzando l'occhio a Dudley «Diventerai un bellomone Dudders proprio come tuo padre!» «Sì ancora un po' di brandy Vernon!» «Quello lì invece?» piegò il capo verso Harry che si sentì stringere lo stomaco «La guida fai da te!» pensò in fretta «Quello lì ha l'aria poco sana è così piccolo succede anche con i cani il colonnello Fabster l'anno scorso me ne ha negato uno una specie di topo ecco cos'era debole malnutrito!» Harry stava tentando di ricordarsi la pagina 12 del manuale un incantesimo per porre rimedio alle retromarce riluttanti «Dipende tutto dal sangue come dicevo l'altro giorno cattivo sangue non mente ora non sto dicendo che la tua famiglia ha qualcosa che non va a Petunia» e batté sulla mano ossuta di Petunia con la sua simile a un badile «Ma tua sorella era la mela marcia capita anche nelle migliori famiglie poi è scappata con un buono a nulla ed ecco il risultato» Harry fissò il piatto uno strano ronzio nelle orecchie «Prendete la scopa per la coda con fermezza» pensò ma non riusciva a ricordare cosa veniva dopo la voce di Zia Marge si faceva strada dentro di lui come uno dei trapani di Zio Vernon «Quel Potter» disse Zia Marge ad alta voce afferrando la bottiglia di Brandy e versandone ancora un po' nel bicchiere un po' sulla tovaglia «Non mi avete mai detto che lavoro faceva?» Zio Vernon e Zia Petunia erano tesi come corde di violino perfino Dudley alzò gli occhi dalla torta per osservare i genitori «Lui non lavorava» disse Zio Vernon lanciando a Harry un'occhiata obliqua era disoccupato «Lo immaginavo» disse Zia Marge buttando giù una gran sorsata di Brandy e asciugandosi il mento con la manica «Una nullità! Uno scroccone! Uno sfaticato! Che?» «Non è vero» disse Harry all'improvviso tutti tacquero Harry tremava non era mai stato così arrabbiato «Ancora un po' di Brandy!» strillo Zio Vernon che era impallidito svuotò la bottiglia nel bicchiere di Zia Marge «Tu ragazzo!» si bilò rivolto a Harry «Vai a dormire! Vai!» «No Vernon!» disse Zia Marge le era venuto il singhiozzo tese una mano per interrompere il fratello gli occhiettini iniettati di sangue fissi su Harry «Va avanti ragazzo! Va avanti!» «Sei fiero dei tuoi genitori!» «Vero?» «Figurati!» «Due che si ammazzano in un incidente d'auto!» «Saranno stati ubriachi!» «Non sono morti in un incidente!» esclamò Harry scattando in piedi «Sono morti in un incidente piccola perfido bugiardo e ti hanno scaricato come un fardello sulle spalle dei loro bravi operosi parenti!» strillò Zia Marge furiosa «Sei un insolente ingrato moccioso!» ma Zia Marge all'improvviso tacque per un attimo fu come se ne mancassero le parole sembrava gonfia di una rabbia inesprimibile una rabbia che continuava a premere a premere da dentro il suo faccione rosso cominciò ad allargarsi i suoi occhietti presero a sporgere e la sua bocca si stirò a tal punto da impedirle di parlare un attimo dopo parecchi bottoni saltarono dalla giacca di Tweed e rimbalzarono sulle pareti si stava gonfiando come un pallone mostruoso con lo stomaco che esplodeva dalla gonna di Tweed e le dita simili a salsicce marge gridarono zio vernon e zia petunia in coro mentre il corpo di zia marge cominciava a sollevarsi dalla sedia e a librarsi verso il soffitto ormai era completamente rotonda un enorme boa di salvataggio con gli occhi porcini e le mani e i piedi sporgevano in modo bizzarro mentre navigava a mezz'aria con uno scoppiettio soffocato squarta entrò a scivoloni abbaiando furiosamente no zio vernon afferrò un piede di zia marge e cercò di tirarla giù ma rischiò a sua volta di sollevarsi da terra un istante dopo squarta fece un balzo e affondò i denti nella gamba di zio vernon harry scattò prima che qualcuno potesse fermarlo diretto al ripostiglio del sottoscala la porta si spalancò da sola per magia in un attimo trascinò il suo baule verso la porta filò su per le scale e si gettò sotto il letto strappò l'asse mobile e afferrò la federa che conteneva i libri e i regali di compleanno strisciò fuori prese la gabbia vuota di edvige e si precipitò di nuovo da basso proprio mentre zio vernon usciva dalla sala da pranzo la gamba del pantalone ridotta a brandelli sanguinolenti tolla subito qui strillò vieni a rimetterla a posto ma harry preso da una rabbia incontenibile aprì con un calcio il baule afferrò la bacchetta e la puntò sul zio vernon se l'è meritato disse respirando affannosamente se l'è proprio meritato stai lontano da me tese l'altra mano all'indietro cercando a tentoni la maniglia me ne vado disse ne ho abbastanza e un attimo dopo era fuori lungo la strada buia e tranquilla trascinando il baule con la gabbia di edwige sottobraccio grazie a tutti